A Gela continuano i servizi di controllo ad alto impatto, volte a garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado urbanistico e sociale. Come indicato dal prefetto di Caltanissetta, conformemente alle direttive ministeriali, le forze di polizia, in un servizio straordinario, il 20 dicembre hanno impiegato equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, come stabilito dall'ordinanza del questore. Nel corso dei controlli sono state arrestate due persone per porto abusivo di armi in luogo pubblico, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza pubblico ufficiale. Sono stati sequestrati stupefacenti e 20 mila euro in contanti, presumibilmente provento dello spaccio. 12 persone sono state denunciate per varie violazioni, tra cui violazione delle prescrizioni di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, porto di oggetti atti ad offendere, minaccia e altre. Complessivamente sono state controllate 231 persone e 140 veicoli, con l'irrogazione di 21 sanzioni al codice della strada dei quattro esercizi commerciali scrutinati. Uno è stato multato per l'impiego di personale senza contratto regolare. Sono stati effettuati 20 controlli su individui soggetti a misure di sicurezza, con 24 perquisizioni e 9 sequestri. Le attività di controllo sono state potenziate anche nel capoluogo durante le festività, con un focus sull'abusivismo commerciale. Il 19 dicembre, Forza dell'Ordine, hanno effettuato controlli su attività abusive in diverse zone della città, sanzionando due venditori ambulanti per mancanza di autorizzazione. I banchi utilizzati sono stati rimossi, alcune cassette di frutta e verdura sono state sequestrate e donate in beneficenza. Inoltre, due esercizi commerciali sono stati multati per violazioni tributarie.